Nel Cenacolo del Convento degli Agostiniani a Empoli, la vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni e l'assessore al bilancio Vittorio Bugli hanno fatto il punto sulla rete delle residenze artistiche in Toscana, alle quali la Regione ha deciso di destinare altri 6 milioni di euro nel triennio 2019-2021. Al momento sono 23 le residenze attive animate da 33 imprese teatrali in 57 spazi in convenzione con 43 comuni, volume d'affari nel triennio 2016-2018 dei 31 milioni e 980 mila euro, presenti all'incontro il sindaco di Empoli Brenda Barnini, amministratori, direttori culturali e teatrali. L'importanza delle residenze sta nella loro capacità di costruzione di comunità e nella loro capacità di spingere un pubblico anche meno abituato alla cultura invece alla partecipazione. Tra 2016 e 2018, grazie alle residenze artistiche, sono stati programmati 5.404 spettacoli a cui hanno assistito 411.824 spettatori paganti, a cui se ne aggiungono 94.000 che hanno assistito gratuitamente agli spettacoli nei teatri all'aperto, un vero presidio di inclusione sociale e comunità. In un momento come questo la cultura è importante per combattere questa sorta di degrado che viene su questi temi, sui temi legati all'accoglienza, all'inclusione, anche all'umanità delle persone. In continua crescita anche il numero di spettatori nelle residenze artistiche che nel triennio 2016-2018 è passato da una media di 87 a una di 102 a replica. Grazie a tutti.